Il principio morale che dire la verità sia un dovere, se fosse preso in modo assoluto e isolato, renderebbe impossibile ogni tipo di società. Ne abbiamo la prova nelle conseguenze dirette che ha tratto da questo primo principio un filosofo tedesco, che arriva a sostenere che persino davanti agli assassini che vi chiedessero se il vostro amico che stanno inseguendo si è rifugiato a casa vostra, la menzogna sarebbe un crimine. Il filosofo tedesco di cui parla questo testo è Immanuel Kant e intorno a questa provocazione cresce e viene costruito il volumetto che presento. Bisogna sempre dire la verità. Questa domanda, che è una domanda che ci chiediamo tutti, per Kant non è una domanda, è un'affermazione. Bisogna sempre dire la verità. e in questo volumetto noi raccogliamo i testi che documentano come il più grande filosofo dell'illuminismo sia giunto, attraverso una serie di passaggi, ad affermare una posizione così assoluta che nella storia della filosofia è pressoché unica. Forse solo Agostino nella tarda antichità ha sostenuto nello stesso modo il dovere della veridicità, ma appunto la strumentazione teorica di Agostino è diversa. Per Kant il dovere di dire la verità è un dovere assoluto che non ammette eccezioni. Per Agostino il dovere di dire la verità si confronta con tutta una serie di strategie, strategie retoriche, Agostino ha una formazione retorica e con un'attenzione per il non detto. Ebbene, in Kant tutto questo è eliminato in partenza. L'alternativa è secca. Dire la verità o mentire? Non c'è una terza posizione. Quindi qui prendiamo in esame un valore della menzogna particolare. Non si tratta di una menzogna che si dice per avere un vantaggio, ma si tratta di una menzogna che, qualora la si dica, salva una vita, salva la vita dell'amico. E di fronte a questa menzogna Kant non consente che questa menzogna sia possibile. Il testo di Kant che pubblichiamo nella raccolta del volume, bisogna sempre dire la verità, suona nel testo, nella traduzione dall'italiano del tedesco, sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità. Quindi c'è un presunto diritto di mentire e questo diritto di mentire va discusso. Ma appunto facciamo un passo indietro. Come inizia la questione? La questione prima sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità che è appunto un testo che tra le sue pieghe contiene le parole che vi ho letto all'inizio. Il principio morale che dire la verità sia un dovere se fosse preso in modo assoluto e isolato renderebbe impossibile a ogni tipo di società. Ecco allora una sorta di possibilità, anzi di dovere contrario potremmo dire. Ci sono delle circostanze in cui non solo è possibile mentire ma si deve mentire. E qual è questa circostanza primaria? Quella in cui appunto il dovere della verità si contrappone alla questione della vita. Diciamo meglio, il dovere della verità si scontra con l'amore per l'umanità. Ecco allora che per ricostruire questo primo momento del dibattito il volume bisogna sempre dire la verità raccoglie il testo di Kant che vi ho appena citato sul presunto diritto di mentire per l'amore dell'umanità, il testo di Costant che lo provoca, che suscita questo saggio di Kant e poi dieci testi che percorrono il tema della veridicità nell'opera di Kant, quindi dieci testi di Kant in cui Kant sin dai testi giovanili fino appunto a quelli dell'estrema vecchiezza testimonia la costanza con cui ricorrentemente questo grande filosofo torna sul tema della veridicità. Dire la verità non è conoscere la verità, è dire ciò che si crede essere la verità e la questione della verità è presa in esame in queste circostanze, in queste situazioni morali ovviamente. Di conseguenza non stiamo parlando della verità scientifica, non stiamo parlando di una verità universale, non stiamo parlando della verità del concetto, stiamo parlando di una verità pratica, di una verità circostanziale, ebbene quella verità quotidiana che incontriamo tutti i giorni e che però in alcune circostanze può diventare una questione di vita o di morte. Ecco allora il centro della polemica, sorgere da un intervento, uno scritto giovanile di Benjamin Costin, Costin è appena arrivato a Parigi dalla sua natia svizzera e di fronte alla fase finale della rivoluzione francese, il direttorio, laddove appunto la fase virulenta e più violenta della rivoluzione è alle spalle e si cominciano a fare dei bilanci, Costin scrive un libro di attualità politica potremmo dire, questo libro sulle reazioni politiche, dove la tesi di fondo del libro è la rivoluzione è buona nei principi ma appunto sia nei rivoluzionari estremi come appunto i giacobini di Robespierre che nei reazionari che adesso vogliono liquidare la rivoluzione vede una incapacità di congiungere i principi con la realtà e con la loro applicazione, mancano i principi intermedi e allora per mostrare questa ferocia dei principi potremmo dire Costin utilizza questo esempio e costruisce appunto questa micro narrazione dell'amico, dell'ospite e dell'assassino potremmo dire, ecco è un esempio che non capita a caso in un libro che sta parlando della situazione politica della rivoluzione, pensate la caccia all'uomo che in ogni situazione violenta politica si viene a effettuare tra le fazioni, pensiamo appunto a come i giacobini arrestassero i nobili, a come appunto sia finito prima in carcere e poi appunto sulla ghigliottina una parte della nobiltà ma non solo, anche di intellettuali, pensiamo a grande Condorcet che appunto dopo essere vissuto per mesi in una soffitta nascosto nel momento in cui si allontana dal centro di Parigi viene denunciato e arrestato e poi appunto finirà i suoi giorni insomma in prigione. Sono anni quindi di crudeltà e l'esempio quindi sta in questa ottica crudele perché appunto la contrapposizione è quella tra la verità e la vita e questa è sempre una contrapposizione crudele. La sincerità, il dire la verità e la sincerità sono due cose diverse, adesso lo spiegheremo rapidamente, implicano sempre un rapporto crudele della verità con la vita. Dire la verità costa e in questo modo la verità diventa un operatore sia di costruzione della propria autenticità, se la verità costa appunto io voglio essere la verità, no? Ecco. Dall'altra parte appunto il dire la verità diventa crudele nel momento in cui noi la diciamo agli altri e questa verità fa male, non solo perché porta, come nel caso dell'esempio, la morte dell'altro, ma perché la verità può appunto dire qualcosa di crudele a proposito dell'altro. Ci sono esempi insomma nella nostra quotidianità, lo sappiamo, insomma quante volte appunto è meglio non dire qualcosa per non ferire un altro anche se questa cosa che si dice ha la caratteristica di essere vera o almeno noi la riteniamo vera. Eppure appunto questa crudeltà della verità diventa effettivamente mortale nel momento in cui appunto genera una situazione come quella dell'esempio fatto da Costant. Ebbene questo esempio fatto da Costant non ha un autore. Costant parla in questo suo scritto giovanile non ha ancora trent'anni di un filosofo tedesco che avrebbe sostenuto questa teoria della veridicità, cioè del dire la verità assoluta. Ma appunto le circostanze dell'epoca portano a una rapidissima traduzione di questo testo di Costant che ha un discreto successo editoriale. Vende mille copie in tre giorni che anche per l'epoca è eccezionale, ma anche per la nostra epoca è abbastanza eccezionale che un saggio venda così tanto. Ebbene Costant scrive questo testo. Questo testo viene letto da un giacobino tedesco, Karl Friedrich Kramer, il quale ha una rivista che potremmo dire con regolarità raccoglie in traduzione le cose più notevoli che vengono pubblicate a Parigi. È una specie di osservatorio tedesco sulla Francia e la sua rivoluzione. La rivista ha proprio un titolo descrittivo, si intitola La Francia nell'anno, puntini, e l'anno poi nella fattispecie 1797. E in questa rivista Kramer raccoglie una serie di testi, tra testi giornalistici, saggi, brevi saggi, piccoli saggi e nella fattispecie il libro di Costant viene pubblicato a puntate integralmente in questo testo, in questa rivista. Per cui appunto pochi mesi dopo la sua uscita a Parigi il testo è disponibile in tedesco e capita tra le mani di Kant. Kant nel 1797 è andato in pensione da un anno. L'ultima lezione di Kant, una lezione illogica, è del 1796, si congeda dall'insegnamento universitario all'Università di Königsberg ed è in pensione. Kant morirà nel 1804, quindi di lì a sette anni. Siamo nella fase finale della sua vita. Kant sta mettendo mano a opere importanti. La metafisica dei costumi è sul suo scrittorio e uscirà proprio alla fine del 1797 e l'anno successivo uscirà l'antropologia pragmatica. Lezioni raccolte dai suoi studenti stanno per vedere la luce negli anni successivi, alcune ancora cura di Kant e poi appunto diciamo che verso il 1802 comincerà il declino della mente del grande filosofo che appunto si spegnerà nel 1804, come si diceva. Quindi Kant è nella fase finale della sua vita ma è tutt'altro che un Kant diciamo fuori dai giochi e quando legge appunto il saggio di Costant e in particolare questo passaggio che nomina un filosofo tedesco che avrebbe sostenuto questo, Kant si sente chiamato in causa. Si sente chiamato in causa e allora decide di scrivere un saggio in risposta a questo testo di Costant e il saggio verrà pubblicato, pensate siamo nel 1700, alla fine del 1700, la rapidità con cui questo scambio si consuma. Costant scrive in un passaggio il capitolo ottavo sulle reazioni politiche, questo esempio riferito a un generico filosofo tedesco e Kant si riconosce nella traduzione che è già stata apprestata nel giro di pochi mesi e che sulle soglie dell'estate è disponibile in tedesco in questa rivista, si riconosce e prende la penna in mano e scrive appunto la sua risposta che è un saggio conciso e piuttosto efficace dal titolo sul presunto diritto di mentire per amore dell'umanità. Questo saggio viene pubblicato nel settembre del 1797, quindi marzo del 97 sulle reazioni politiche, le reazioni politiche vengono tradotte nella tarda primavera in tedesco, escono in questa rivista di Kramer, Kant legge il testo di Costant tradotto e scrive durante l'estate e addirittura a settembre esce la sua risposta, quella che è realmente una risposta, perché appunto il testo di Costant parla di un generico filosofo tedesco, un filosofo allemand, mentre invece il testo di Kant risponde a Costant e quindi è contestuale. Questi due primi testi che rappresentano proprio un dialogo, costituiscono la prima parte dopo l'introduzione del volume bisogna sempre dire la verità, che è il volume di cui stiamo parlando. In seguito una seconda parte del volume è occupata da dieci interventi, dieci testi di varia natura, che nell'arco di tutta la produzione di Kant il filosofo di Königsberg ha dedicato alla questione della veridicità, con sfumature diverse per arrivare appunto a questa posizione finale che viene ben riassunta efficacemente nel titolo appunto sul presunto diritto di mentire per l'amore dell'umanità. Allora appunto, bisogna sempre dire la verità? Ci chiediamo noi. Bisogna sempre dire la verità? Risponde Kant. Come risponde a Costant il nostro Kant? Scrive appunto, un diritto di mentire per l'amore dell'umanità è impossibile dal momento che la menzogna danneggia sempre qualcuno, seppure non un altro uomo, l'umanità in generale, in quanto annienta la fonte stessa del diritto. È quindi il mentire ciò che distrugge qualsiasi diritto. Di conseguenza non può esserci un diritto di mentire per l'amore dell'umanità. Quando Costant dice che appunto gli assassini che bussano alla porta dell'amico che sta ospitando il fuggiasco non hanno diritto alla verità e quindi implicitamente si dice che c'è un diritto alla menzogna, Costant non sa quello che sta dicendo. Il mentitore misericordioso, ripete Kant, mostra di non considerare la veridicità come un dovere in se stesso, ma si riserva delle eccezioni a una regola che per se stessa, per la sua stessa natura non ne ammette alcuna, pena l'autocontraddittorietà. La questione del diritto di mentire per l'amore dell'umanità espone appunto al centro dell'argomentazione un nesso tra la verità e il dirla. Sembra quasi, dice Kant che se noi non diciamo la verità entriamo in contraddizione, cioè diciamo una contraddizione. La verità ha bisogno di essere detta. È il problema. Nel momento in cui ci viene chiesta la verità noi non ci possiamo sottrarla. Possiamo evitare di dirla se non ci viene chiesta. Questo sì, Kant lo ammette. Ci sono due nomi in tedesco per queste due posizioni che traduciamo con due termini anche nel libro che vi presento che in italiano sembrano talvolta dei sinonimi ma che in realtà sinonimi non sono. Il tedesco dice offenherzigkeit, la franchezza, cioè l'apertura di cuore letteralmente offenherzigkeit. Quel dire sempre la verità anche quando non c'è un'esplicita richiesta o una domanda dell'altro. E la varavtikkeit, ovvero la veridicità, cioè dire la verità in tutto ciò che si dice. Quindi la prima è dire tutto ciò che si pensa. La seconda è dire la verità quando ci viene chiesta. Ecco, per Kant quando ci viene chiesta la verità non si può fare a meno di dirla, altrimenti si produce qualcosa di simile a una contraddizione. Bisogna sempre dire la verità quindi anche agli assassini. Per tutti noi questa affermazione di Kant è difficile da accettare. Riconosciamolo, no? È difficile essere d'accordo con Kant. La posizione è sembrata radicale e troppo ossessiva addirittura a gran parte dei lettori del testo con cui lui risponde a Kant. Allora bisogna in qualche modo interrogarci su questo grandissimo filosofo, uno dei grandi filosofi del canone occidentale, perché si è giunto a una posizione così radicale. Cosa sta sotto a questa radicalità? È un po' quello che cerchiamo di fare nel saggio introduttivo del bisogna sempre dire la verità. In questo saggio introduttivo non solo cerchiamo di ricostruire la posizione come Kant arriva alla sua posizione così radicale, ma cerchiamo anche di rispondere alla domanda delle cento pistole, cioè perché si arriva a radicalizzare così la contrapposizione tra verità e vita? Tra la verità e la vita dell'innocente? Perché appunto la questione è che l'amico che fugge dagli assassini non è un assassino che si sottrae alla vendetta, ma è appunto un innocente. Il problema che sta al centro di questo saggio e di tutti i testi che vengono raccolti in questo saggio è un problema e un dilemma tra la verità e la vita, laddove appunto la vita è la vita esposta, la vita innocente. Ora, nella tradizione appunto noi usiamo in maniera un po' generica alcune parole, per esempio veridicità non è sincerità, la sincerità è la modalità con cui noi agganciamo noi stessi alla verità, cioè diciamo la verità su noi stessi, siamo sinceri. L'essere sincero è appunto essere sincero, non dire la verità. Se appunto io sono sincero, ciò significa che appunto cerco di presentare me stesso realmente come sono e questa sincerità poi si conserva negli atti, nella parola data eccetera eccetera. La sincerità quindi è la connessione tra potremmo dire l'essere se stessi, l'ipseicità, cioè l'essere se stessi, l'ipseico e dall'altra parte il dire la verità, cioè una sorta di polo all'etico che ha a che fare appunto con la verità. Sincerità è quindi essere sinceri e dire la verità. Ma appunto ci sono delle situazioni estreme in cui non necessariamente la sincerità coincide con il dire la verità. La verità è neutro. Io posso dire la verità al mio peggior nemico nel momento in cui dicendogli la verità gli faccio male. quindi dire la verità non è di per sé stesso un essere sinceri. C'è quindi una tensione e su questo tema si potrebbe parlare a lungo. Ho scritto un altro libro proprio per Raffaello Cortina dal titolo Sincerità dove si cerca di di esplicitare queste gradazioni tra veracità, veridicità, sincerità, autenticità. Sono parole che nella lingua di tutti i giorni usiamo come sinonimi ma che in realtà possiamo anche contestualizzare meglio dal punto di vista filosofico. ebbene appunto la veridicità è dire il vero, la veracità è appunto impegnarsi in qualche modo per questo vero che si dice, la sincerità significa lavorare su se stessi affinché questa verità diventi il nostro essere, cioè noi agganciamo il nostro essere alla verità, l'autenticità si spinge ulteriormente a scavare in noi stessi fino a scoprire una negatività, un'autotrascendenza potremmo dire. L'autentico nega persino la verità che è stata. Quindi mentre la sincerità è un rapporto potremmo dire orizzontale con gli altri di reciprocità per cui si tende a corrispondere all'immagine che si dà agli altri e a esserne fedeli, l'autenticità rompe questo rapporto e diventa persino conflittuale. L'autenticità arriva a rinnegare quello che eravamo. insomma, quello che eravamo diventa una maschera che non si adatta più al nostro volto autentico e il nostro volto autentico cambia. L'autenticità è appunto una sincerità che si lancia oltre se stessa e diventa anche fortemente distruttiva. Comunque queste variazioni stanno sullo sfondo perché in realtà quello che è l'oggetto dei testi raccolti bisogna sempre dire la verità non è la sincerità ma è appunto la veridicità, cioè il dire la verità. Questo dire la verità di solito nella tradizione filosofica è agganciato all'atto parresiastico del filosofo, il filosofo che dice la verità al potere Socrate, esempio con cui nasce la filosofia. Ma dire la verità da parte del filosofo è un dire la verità che implica un rischio della vita per colui che la dice. Quindi colui che fa l'atto di verità è lo stesso che ne subisce le conseguenze. Come potete facilmente capire la situazione del nostro esempio, quella dell'ospite, dell'amico e degli assassini, vede colui che dice la verità non coincidere con colui che subisce la violenza e che quindi rischia la vita. L'ospite che appunto giunge alla porta dell'amico è un innocente che non ha voce, non ha parola, non afferma, non dice nulla. È un corpo, una nuda vita qualcuno direbbe e invece colui che ha la responsabilità di dire la verità in realtà non rischia nulla. Questo è il punto, una questione di fondo importante che dobbiamo mettere in evidenza e che riguarda il libro di cui stiamo parlando. Kant, in buona compagnia in questo caso con una tendenza del pensiero filosofico, tendenza che però qui emerge proprio perché viene imposta in una maniera quasi scandalosa, separa l'atto di veridicità, cioè il dire la verità, dalla responsabilità di ciò che si afferma dicendo la verità. La verità nella tradizione filosofica sembra quasi qualcosa di talmente forte che implica meccanicamente il fatto di dirla. Per cui la difficoltà di dirla affiora nel momento in cui questa entra in contraddizione con la vita, come nel caso di Socrate, di Giordano Bruno, dell'eroe della verità, che però appunto deve misurare questa pulsione verso la verità come macchina della verità, vincendo l'inerzia della propria vita a continuare a vivere, a sopravvivere, l'inerzia animale della propria vita. Ebbene appunto nel caso in cui appunto la verità viene detta dall'ospitante, dall'amico e la vittima seguita dagli assassini subisce le eventuali conseguenze di questa verità, ebbene in questo caso la macchina della verità si disgiunge dall'amore per l'umanità e mostra tutta la sua contraddizione. E appunto Kant con una trasparenza inquietante lo dice. È stato per un puro caso, zufall in tedesco, tra parentesi Kant mette casus in latino, che la verità della dichiarazione ha recato danno a chi si era rifugiato in casa, non a causa di un'azione libera in senso giuridico. Dire la verità quindi de-responsabilizza. Questo è l'inquietante conseguenza dell'argomentazione della veridicità assoluta di Kant. Se ti sei attenuto rigorosamente alla verità, la giustizia ufficiale non potrà debitarti nulla. Qualunque imprevedibile conseguenza possa seguire alla tua dichiarazione. Quindi colui che ospita l'amico che fugge dagli assassini, colui che dà asilo alla vittima, immaginiamo situazioni anche diverse storicamente, Anna Frank, non ha responsabilità nei confronti di colui che ospita. Perché? Perché dicendo la verità, la verità è responsabile di se stessa. Tu sei solo una macchina della verità in questo senso. Non puoi non rifiutarti di dirla nel momento in cui questa viene richiesta perché appunto altrimenti crolla l'edificio della fiducia. E beh, però appunto se noi stiamo stati attenti all'esempio, se noi abbiamo seguito questo esempio fino in fondo, qualcosa non quadra. L'amico è arrivato alla tua porta, ha bussato, ha chiesto asilo, ha chiesto rifugio. Non ci sono state forse delle parole e un impegno in quel rifugio. non è stata assicurata la protezione, la scissione tra dire la verità come atto puntuale e il prendere un impegno e quindi assicurare la fedeltà della parola data. non mostrano la corda in questa situazione. Non è forse stata detta la parola ospitalità e poi negata. Non è stato quindi detto qualcosa che nel momento in cui l'ospitante dichiara agli assassini di ospitare l'amico e quindi spalanca la sua porta alla violenza, non ha forse in questo momento negato una verità già detta, la verità dell'ospitalità, una verità che implica fiducia, che implica una durata temporale. Quindi Kant cerca di risolvere la questione della veridicità formulando una regola assoluta che non ammette eccezioni. Ma appunto pensa la verità sempre come una dichiarazione atomica, una frase. Ma appunto la verità non è una frase, la verità non è una parola detta e poi sospesa. La verità è un impegno. La verità è la parola dell'amico che dà ospitalità e che quindi si impegna a difendere l'amico. Nel momento in cui l'ha ospitalità non può negare questa parola lunga per la parola breve della affermazione gettata lì a degli assassini, a degli uomini con le armi in mano. Dire la verità agli assassini è il contrario di ciò che si era impegnati di fare nel momento in cui si era offerta e concessa la propria ospitalità all'amico. Nello scenario di questi testi kantiani emerge quindi un elemento, un ulteriore elemento, di quella che abbiamo chiamato qualche anno fa in un libro, la virtù crudele. Emerge un elemento di crudeltà della verità. La veredizione meccanica, cioè il dire la verità meccanicamente legando questa verità all'oggettività del linguaggio, produce un effetto contrario. È appunto crudele perché appunto tradisce l'atto di fiducia della parola data. È un tradimento effettivo dell'amico reale. Quindi sul presunto diritto di mentire per l'amore per l'umanità. Eh ma cos'è l'amore per l'umanità? L'amore per l'umanità è l'ospitalità, è dare asilo all'amico o l'amore per l'umanità è l'astratta osservanza della frase atomica? Ebbene il linguaggio viene violato in tutti e due i casi. Si viola il fondamento del linguaggio nel momento in cui si dice la menzogna ma si viola il fondamento del linguaggio anche nel momento in cui si manca alla fiducia e alla parola data. Una parola data non a un assassino ma una vittima innocente. La prescrizione kantiana di dire sempre la verità a prescindere dalle sue conseguenze e dai suoi presupposti ossia dai suoi effetti di continuità confligge con l'impegno per la verità che la sincerità richiede. Quindi in qualche modo entra in cortocircuito la veridicità con la sincerità. Questa è appunto una delle conseguenze molto interessanti di questo testo. Kant raggiunge questa posizione della verità e della veridicità assolute nella fase finale della sua vita e sembra quasi che abbia bisogno di questa macchina della veridicità assoluta per mostrare ciò che non si mostra, per trasformare la correttezza delle azioni umane anche nella genuinità di ciò che appunto rimane sempre all'interno del cuore dell'uomo. L'intenzione. Con che intenzione io faccio qualcosa? Allora se esiste la veridicità, se la veridicità è assoluta, se appunto il linguaggio è trasparente come un cristallo, le intenzioni delle persone diventano immediatamente visibili. Ma appunto Kant sa bene che l'uomo è un animale strano, un animale che ha nell'animo tendenze opposte e quindi ricorre alla veridicità, alla macchina di cristallo, alla sfera di cristallo della veridicità per appunto ovviare a questa opacità delle intenzioni. Ma non è questo il modo con cui tentare di costruire un mondo all'altezza della verità. Kant si illude che una soluzione formale possa risolvere questo problema. In realtà appunto le azioni hanno in sé anche la loro trasparenza. Un'azione buona è salvare per esempio l'amico, ma salvare anche chiunque, un'unica vita, più vita. Pensate a Schindler's List, pensate al film di Spielberg. Chissà se le intenzioni di Schindler sono realmente quelle all'inizio professate. Nel film all'inizio Schindler non sembra un santuomo, sembra semplicemente un avventuriero. Anche il fatto di poter utilizzare la mano d'opera degli ebrei che gli vengono affidati può essere una trovata per guadagnarci su, per sfruttare la situazione. Chissà se le intenzioni di Schindler's all'inizio sono così trasparenti. Potremmo mai saperlo anzi, ma in realtà è l'azione che fa Schindler's che mostra nel corso del tempo la sua affidabilità. Schindler progressivamente assume una decisione che all'inizio forse non era così trasparente, ma appunto la vita umana è fatta di questa verità proiettiva. La verità non è un'asserzione puntuale, la verità è qualcosa che noi viviamo nel corso del tempo. Le persone di cui ci fidiamo sono alla base di una società all'altezza della verità. Fidarsi degli altri è la ragione per cui la verità è un valore. E quindi la macchina kantiana si inceppa nel momento in cui, al centro di una situazione in cui la fiducia è fondamentale, io mi affido la mia vita a te, come fa appunto il fuggiasco che fugge e si sottrae dagli assassini, in quel momento nodale il valore della verità appare nell'atto di ospitalità, non certo in quello del filosofo che sostiene l'assolutezza del dovere di dirla.